Come si chiama? Non lo so Ma neanche il nome si è fatto dare Ehi! Giovanotto! Via, passala, passala! Senta lei! Senta! Autostoppista! Calciatore! Prendila! Tira! Gesù! Vengo subito! Finisco la partita e vengo! Voi andate pure, io vi raggiungo! Ha visto? L'ho chiamato Gesù e si è voltato! Ma lei gli ha detto di che cosa si trattava? Assolutamente no! Qualcuno per forza deve averglielo detto! Sarà un caso! Eccolo! Sembra proprio Gesù! Un piccolo incidente! Una motoretta le ha rovesciato la carrozzina e si è fatto una cosina ma niente di grave! Un po' d'alcol è passato a tutto! Sì! Provveda, provveda! E voi cosa fate? Fuori? Avanti! Un momento! Ve l'ho detto io di venire qui dove possono giocare senza pericolo! Qui dove? Ma nel vostro giardino! Andate bambini! Su! Attenzione alla strada! Dov'è la sua carrozzella? La carrozzella è fuori! Andiamoci! Un attimo che vengo subito! Se l'ha messo a giocare! Vieni! Ancora! Mi ha fatto una partitella coi bambini! Prego! Nel vostro campetto che è pieno di alberelli! Ne abbiamo sradicati due o tre! Poi li rimettiamo a posto! L'abbiamo dati al portiere! Ci penso a lui! Ha detto!